Tra pochissimo, praticamente al termine di questo TG Sport, andrà in onda la seconda partita della nazionale italiana allenata da Conte, seconda partita degli europei in corso di svolgimento in Francia, andrà in onda sulla rete Rai e naturalmente sulle reti Sky. E' un'Italia che ha stupito tutti nel primo incontro che è stato giocato lunedì scorso contro il Belgio, perché del Belgio si era detto davvero peste e corne, nel senso che aveva in squadra tantissimi campioni che avrebbero probabilmente strapazzato l'Italia di Conte proprio in virtù dell'alto tasso tecnico di cui è dotata la squadra fiamminga. Poi in realtà tutto questo si è rivelato abbastanza inconsistente, così come accade spesso nel calcio, bisogna fare delle analisi profonde proprio per cercare di evitare poi delle brutte magre quando si fanno i pronostici. Così è capitato che il tanto sannato belgio si è sciolto come neva e al sole, anche se ha avuto qualche buona opportunità per pareggiare il gol di Giaccherini realizzato nel primo tempo, ma in realtà la squadra tanto decantata ha dovuto fare i conti con una squadra tosta, una squadra massiccia, una squadra ben messa in campo. Se ci consentite una squadra che giustamente come ha interpretato Conte, una squadra che ha badato innanzitutto a non prenderle, perché vedete noi che seguiamo il calcio da oltre 50 anni, ebbene nel calcio nessuno o quasi nessuno ha inventato nulla, dal campionato allievi fino al massimo campionato di Serie A, vince sempre la squadra che incassa pochi gol. Quindi Conte ha fatto di questo assioma praticamente la sua virtù, per cui con una difesa impostata con Buffon, con Barzagli, Bonucci e Chiellini, ben protetta poi dal centrocampo. L'Italia appunto ha difeso con grande ordine e poi ha colpito, quando c'è stato da colpire, come dicevamo prima con Giaccherini e poi nel finale della partita con Pellè, dopo aver sfruttato male, dobbiamo dire, anche per la bravura del portiere belga, qualche altra occasione da gol. Dunque si torna in campo tra pochissimo, che cosa significa tutto il discorso che ho fatto finora? Significa che tra pochi minuti si affronta la Svezia del pellicano Ibraimovic, una squadra certamente difficile, l'Italia deve naturalmente affrontarla con le armi che ha già utilizzato contro il Belgio. Innanzitutto l'umiltà, mantenendo un profilo basso di consapevolezza dei propri mezzi tecnici, che non sono eccelsi, ma che però può contare su un organico che mette in cuore il cuore in campo. Se saranno anche questi gli ingredienti della partita che vedremo tra poco, siamo certi che l'Italia otterrà un altro risultato prestigioso. L'importante è essere umili, non montarsi la testa, soprattutto affrontare gli avversari con grande concentrazione e con grande dinamismo agonistico. Sono questi gli ingredienti per cercare di fare una bellissima figura. La prima partita dice poco, perché ricorderete certamente i mondiali di due anni fa, l'Italia vinse la prima partita, poi però perse le altre due e quindi torno a casa mestamente. Questa volta però siamo sicuri che la musica sarà completamente diversa. La prima partita dice che la musica sarà completamente diversa.